Allora, professore, cosa devo fare con te? Perché dovrebbe fare qualcosa? Ma te l'ho detto, io non centro niente. Quando stamattina sono uscito di casa per andare al lavoro, tu mi cacciari nei miei programmi. E invece, eccoti qua. Non significa nulla. Capita ad incontrare delle persone e capita che qualcuna di queste sia nei guai per un motivo o per l'altro. Ma non significa che dobbiamo assumercene la responsabilità. E comunque spesso, chi è sempre pronto ad occuparsi degli sconosciuti, non si occupa delle persone a lui più care. Eh, si può essere un fondo di verità in quello che dizi. Non dico di no. Ma in questo caso specifico, mi sono basato su una cosa sola. E cioè? Cioè sul fatto che vedo un tizio lassù, in piedi. Lo guardo e posso pur dire, ma a prima vista non sembra mio fratello. Però sta lì. Forse è il caso che lo guardi meglio. E così ha fatto. Eh, era un po' difficile far finta di niente. Fammi dire che il tuo approccio è stato un bel po' diretto. Non è stato un approccio. Non l'avevo neanche vista. Adesso è meglio che me ne vada. Sembri uno a posto, professore. In realtà, quello che non capisco è come hai fatto a metterti in un casino del genere. Quando hai deciso che era il gran giorno, cos'è? Ha qualcosa di speciale? No. Beh, guardi, oggi è il mio compleanno, ma che reputi la cosa speciale, proprio no. Allora, buon compleanno, professore. Grazie. Insomma, hai visto che stava arrivando il tuo compleanno e hai pensato che era il giorno più adatto? Beh, certo. Non vedevo modo migliore di festeggiarlo. Comunque, adesso devo andare. Ok. Aspetta che prendo la giacca. Vengo con te. Ma io sto tornando a casa. Benissimo. Benissimo. Guardi che lei non ci viene a casa mia. Basta con questi giochetti. Devo andare. Sono molto stanco. Perché sta facendo tutto questo? Chi l'ha nominata mio angelo custode? Tu lo sai? Chi è stato? Beh, non usciamo più. Lei pensa davvero che in questa stanza ci sia Gesù? No, non lo penso. Ne sono sicuro. Lo so che c'è Gesù in questa stanza. Lei lo vede, Gesù? No. No, non lo vedo. Però gli parla. Ogni santo giorno. E lui parla con lei. Sente proprio la sua voce. No. Non sento la sua voce. Non sento neanche la mia, se è per questo. Però ci parliamo. Beh, allora, Gesù non potrebbe essere soltanto nella sua testa. Infatti è nella mia testa. E allora non capisco cos'è che sta cercando di dirvi. Ma lo so che non capisci. Zuccherino, sta a sentire. La prima cosa che devi tenere presente è che io nella testa non ho manco un pensiero originale. Se non ha dentro la scia del profumo della divinità, allora non mi interessa. La scia del profumo della divinità. Esatto. Che te ne pare? Non è male. L'ho sentito alla radio. Da un predicatore nero. Ma ti voglio fare una domanda. D'accordo. Tu hai mai letto questo libro? La Bibbia. Ho letto delle parti. L'ho letto qua e là. Ho letto il libro di Giobbe. Però di libri ne hai letto un sacco? Sì. Quanti ne avrai letto? All'incirca. Non lo so. Due a settimana forse. Cento all'anno. Per qualcosa come quarant'anni. E per te? Qual è il libro migliore che hanno mai scritto? Ma, di bei libri ce ne sono tanti. Forse Guerra e Pace. Ok. E credi che sia un libro migliore di questo? Non lo so. Sono due tipi di libri diversi. Ma, questo Guerra e Pace è un libro che qualcuno si è inventato. Giusto? Beh, sì. Quindi è per quello che è diverso dal mio libro? Veramente no. Per come la vedo io, sono inventati tutti e due. Mmm. E sono dei due vero? No. In senso storico, no. Qui sulla copertina c'è una scritta che poi si è cancellata. Diceva, il più grande libro mai scritto. Secondo te? È vero? Può darsi. Mi scusi, ma devo andare. No. Non devi andare, professore. Resta qua a farmi compagnia. Lei ha paura che io torni alla stazione. Potresti. Resta qui con me, invece. E se le promettessi di non tornarci? Potresti tornarci lo stesso. Ma lei non deve andare a lavorare. Stavo andando a lavorare, infatti. Strana cosa le è successa mentre andava a lavorare. Già. E se la licenziano? Ma che non mi licenziano. Dovrebbe fargli una telefonata. Non ce l'ho, il telefono. E comunque lo sanno che se non sono già lì è perché non ci vado proprio. Non sono uno che fa tardi. Come mai non ha il telefono? Non mi serve. E poi i tossici me lo ruberebbero subito. Se ne potrebbe comprare uno da quattro soldi. Ai tossici va bene pure quello. Ma ritorniamo a te. No, continuiamo a parlare di lei per un attimo. Dove stava esattamente? Io non l'ho proprio vista. Vuoi dire quando hai fatto quel bel tuffo? Sì. Ero lì, al binario. Pensavo ai fatti miei. Ed ecco che arrivi tu, a tutta birra. Io non l'ho vista. Mi ero guardato intorno per essere sicuro che non ci fosse nessuno, soprattutto bambini. E non c'era anima viva in giro. No, soltanto io. Pensi che un angelo grande e grosso sia stato mandato giù dal cielo per acchiappare il tuo bel culetto all'ultimo secondo e salvarti da una brutta fine? No, non penso questo. Negli angeli non ci credo. E in che cosa credi? In un sacco di cose. O meglio, credevo. Non credo più in una serie di cose in cui credevo una volta. Più che altro, credevo nel valore delle cose. Ok. Le quali cose? Di un sacco di cose. Le cose culturali, per esempio. I libri, la musica, l'arte. Cose di questo genere. Eh, va bene. Queste sono le cose che per me avevano valore. Sono la base della civiltà. O quantomeno un tempo avevano valore. Oggi non ne hanno più così tanto. E cos'è successo a queste cose? La gente ha smesso di dar loro valore. Io ho smesso di dar loro valore. Entro un certo limite. Non saprei neanche spiegarle bene perché. Quel mondo è in gran parte scomparso. E fra poco lo sarà del tutto. Non so se riesco a seguirti, professore. Le cose che amavo un tempo erano molto fragili, molto delicate. Ma io non lo sapevo. Pensavo che fossero indistruttibili. E mi sbagliavo. Ed è questo che ti ha spinto a buttarti giù dal binario. Non una questione personale. Ma per me è una questione personale. E proprio questo l'effetto dell'istruzione. Rende il mondo intero qualcosa di personale. Sono parole belle forti, professore. Non mi viene in mente nessuna risposta. E magari la risposta non c'è per niente. Ma comunque devo proprio chiedertelo. A che servono idee del genere? Se poi non riescono a farti tenere i piedi incollati per terra quando arriva il treno a 130 all'ora? Beh, se quella del treno è la mia via, sono servita a farmelo comprendere. Comunque non volevo restare ad assistere fino alla fine alla morte di ogni cosa. Allora, vediamo se ho capito bene. Mi stai dicendo che ciò che ti ha spinto al treno è stata solo quella roba culturale che a un certo punto ti è scoppiata tra le mani? Non è poco. Ormai non credo più in nulla. Credo solo nel treno. Cazzo, professore! Eh, sì, cazzo. Non credi niente? Le cose in cui credevo non esistono più. Sarebbe stupido far finta del contrario. La civiltà occidentale è andata definitivamente in fumo nelle ciminiere di Dachau. Ma io ero troppo infatuato per accorgermene. Me ne accorgo adesso. Sei un caso difficile, professore. Lo sapevi? Beh, non c'è motivo per cui lei debba restare coinvolta nei miei problemi. È meglio che me ne vada. Se li hai degli amici? No, nessuno. Ma tu mi prendi per il culo, professore. Manco uno? No. Di amici veri, no. Beh, parlami di quelli non veri, allora. Oh, un amico all'università. Non un amico intimo. Pranziamo insieme di tanto in tanto. Niente di più. Mmm, beh. E questo è il miglior amico che hai. Direi che possiamo considerarlo il tuo migliore amico, no? Non lo so. Però non gli hai lasciato un biglietto né niente quando hai deciso di prendere il treno. No. E gli hai mai detto che ci stavi pensando? No, gliel'ho detto. Non siamo tanto intimi. Non ha il punto di starlo ad annoiare parlandogli di una fesseria come la tua morte? Sì, diciamo pure così. Senta, diciamo che le do la mia parola che me ne vado a casa senza cercare di ammazzarmi durante il tragitto. Diciamo che ti do la mia parola che queste stronzate non le sto manco a sentire. E allora cosa sono suo prigioniero? Ma figurati. E comunque tu eri prigioniero da prima di venire qui. Anzi, eri un condannato a morte. Chi faceva tuo padre? Era avvocato. Lavorava per il governo. Avvocato. E' morto? Sì, di cancro. Di cancro. Quindi è stato male un bel pezzo? Sì, infatti. E tu lo andavi a trovare? No. Come mai? Non lo so. Non mi andava, appunto e basta. Forse non volevo ricordarmelo in quello stato. Cazzate. E lui te lo chiedeva di andarci? No. Ma tua madre sì? Forse sì. Non me lo ricordo. Ma su, professore. Tua madre te lo chiedeva? Ok, è vero. E tu? Cosa le rispondevi? Eh, le dicevo che ci sarei andato. Ma non ci sei andato mai? No. Tuo padre se ne sta steso sul letto a morire di cancro. Tua madre è seduta lì con lui. Gli tiene la mano. Lui sente male da tutte le parti. Ti chiedono di andarlo a trovare un'ultima volta. Prima che muore tu gli dici no. È andata così o no? Sì. Bene. Aspetta che vedo se trovo l'orario della metropolitana. Vediamo quando passa il prossimo treno. Meno male che la faccio divertire. Ogni minuto che passa mi meraviglia di più. Ma possibile che non ti vedi, zuccherino? Sei trasparente come il vetro. Vedo le rotelline che ti girano dentro la testa. Gli ingranaggi. E vedo anche la luce. Una luce buona. Una luce vera. Tu non la vedi? No. Non la vedo. Beh. Che Dio ti benedica, fratello. Che Dio ti benedica e ti assista perché la luce c'è. Tanto tempo fa sono stato in galera per omicidio. Davvero? E chi direbbe di essere stato dentro per omicidio se non fosse vero? E ha tante storie di galera. Non lo so. Una volta qualche storia di galera l'ha raccontato. Ma adesso hanno perso parecchio fascino. Magari dovremmo parlare di qualcosa di più allegro, no? È mai stato sposato? Ha figli? No, professore. Non ho nessuno. Nella mia famiglia sono tutti morti. È sempre stato in mezzo ai guai? Proprio così. Mi piaceva. Forse mi piace ancora. Mi sono fatto sette anni di carcere duro. E fortuna che non me ne sono beccati molti di più. Ho fatto male a un sacco di gente. Mi strapazzavo un po' e quelli non si rialzavano più. Però adesso non si mette nei guai? No. Beh, insomma. Forse per me è una specie di condanna. Il mio stesso karma che mi prende a calci in culo. Ma ora sono passato dall'altra parte. Se vuoi aiutare chi è nei guai, devi andare dove stanno i guai. È poco da scegliere. Da quanto tempo sta qui in questo palazzo? Sei anni. Quasi sette. Non capisco come mai abita qui. Perché? Perché è un posto come un altro. Questo qui mi va bene. Ho una camera da letto per starmene un po' in pazia. E lì c'è un divano dove la gente può buttarsi a dormire. Tossici e cracomani per lo più. Che manco a dirlo ti soffiano tutto quello che possono portarsi appresso. Perciò non possiedo un bel niente. E va bene così. L'unica cosa che mi manca è la musica. Mi voglio comprare una porta blindata per la camera da letto. A quel punto posso ricominciare a sentirmi un po' di musica. Però bisogna cambiare la porta e pure il telaio. Ci sto lavorando. Della televisione non me ne frega niente ma la musica. Mi manca. Ma non le pare una vita orrenda. È in mezzo a gente orrenda. Che cazzo, professore? Questa non è una vita orrenda. Ma che dici? Quella non è gente che vale la pena salvare, anche se si potesse. E non la si può salvare. Questo lo capirà anche lei. Beh, non ho mai detto di no alle sfide. In carcere, prima di uscire, ho cominciato a organizzare delle funzioni religiose. Credo sì che era una sfida. A un sacco di quelli che venivano in realtà non gliene fregava niente. Non gliene poteva sbattere di meno della parola di Dio. Volevano solo che gli facesse curriculum. Da dentro c'erano fratelli che ne avevano combinate di tutti i colori e non gli dispiaceva un cazzo, a parte che si erano fatti beccare. Ovviamente la cosa assurda era che tanti credevano veramente in Dio. Forse pure di più di quelli che stanno fuori. Per me era così almeno. Ti consiglio di rifletterci un po' su, professore. Grazie del consiglio. Ma Dio non fa per me. Penso sia meglio che vada. E non c'è bisogno che vai via, professore. E poi io che faccio? Mi lasci qui seduto? Tutto solo? A lei non ha nessun bisogno di me. È solo che non le va di sentirsi responsabile se mi succede qualcosa. E che differenza fa? Resta un altro pochino. Di sicuro questo posto è più allegro di casa tua. Ti voglio dire una cosa. Va bene. Pensavo che magari questo è solo un lungo periodo di magra per te, fino a quando non ti metti in testa che il mondo va così. Punto e basta. Se intende dire che questa per me è solo una giornata no, è ridicolo. Non penso che la tua è una giornata no, professore. Penso che è una vita no. Bene. Vedo che l'ha capito. E adesso possiamo salutarci. E io so che non hai niente di importante da fare. E come lo sa? Perché tu non dovresti manco più esserci qui. E se te la racconto davvero una storia di galera? Se te la racconto, resti qui? Va bene. Resto un altro po'. Oh, bravo. Benissimo. Ecco la mia storia di galera. È una storia vera? E come è una storia vera? Non ne so altro. Va bene. E in carcere, dopo una sanguinosa rissa con un mio compagno, per futili motivi, mi sono svegliato in un'infermeria e avevano operato. Avevo la milza tagliata in due. Oh, il fegato, non so bene. Per poco non me ne ero andato all'altro mondo. E avevo 280 punti che mi tenevano insieme. Un male che non ti dico. Non sapevo che si poteva avere quel male. E comunque mi avevano messo i cepi alle gambe e ammanettato al letto. Prova da non credersi. Poi, mentre sono steso sul letto, sento una voce, forte e chiara, che più non si può. E la voce dice, se non fosse per la grazia del Signore, tu non saresti qui, per la miseria. Ci ho provato a tirarmi su per guardarmi intorno, ma non mi potevo muovere. Tanto non ce n'era bisogno. Non c'era nessun altro. Cioè, qualcuno c'era, ma era inutile che mi guardavo intorno per vedere chi aveva parlato. Era lui. Il punto è, professore, che io non ho la più pallida idea di che cosa passa per la testa nostro Signore. Non lo so perché mi ha parlato. Se ero io non lo facevo. Però l'ha ascoltato. Beh, che alternativa avevo? Secondo te, lui se ne va in giro a parlare con chi sa benissimo che non lo ascolta? Credi che ha tutto quel tempo da buttare? Se non sapeva già da prima che io ero pronto ad ascoltarlo, non mi diceva neanche una parola. E lei a sua volta si illude di non star perdendo tempo con me perché pensa che io sia pronto ad ascoltarla. Eh, solo che c'è un piccolo problema. Io non sono Dio. Per fortuna. Una volta pensavo che tutto dipendeva da me e non capivo quanto pesava quel fardello finché non me lo sono levato di dosso. Forse è stata quella la cosa più bella, mettere tutto in mano a qualcun altro. Le posso chiedere una cosa? Avanti. Perché voi altri non riuscite proprio ad accettare che certa gente non voglia credere in Dio? Io lo accetto. Cioè, credo che sia un dato di fatto. Me lo trovo davanti, tutti i giorni. Mi conviene accettarlo. E allora, perché non ci lasciate in pace? A farvi i fatti vostri. A penzolare dai soffritti e via dicendo. Se è questo che vogliamo, sì. Perché lui ha detto di no. Sta scritto qui. Mi sa che tu non vuoi essere felice. La felicità è contraria alla condizione umana. Ebbè, è contraria alla tua condizione. Su questo devo darti ragione. La felicità non esiste per nessuno. Solo che pochi ne sono coscienti. Per nessuno? E come ci siamo finiti in un casino del genere? Ci siamo nati in un casino del genere. La sofferenza e il destino umano sono la stessa cosa. L'una è la descrizione dell'altro. Non si può essere felici se si soffre. Perché no? Il punto, professore, è che se nella tua vita non ci fosse la sofferenza, come faresti a capire quando invece sei felice? Felice rispetto a cosa? Non è che ha qualcosa da bere qui, vero? No, professore, niente. Perché? Tu bevi? Sta per farmi una paternale sul vizio dell'alcol. Ma che... È stata una giornata difficile. Un bicchiere si potrebbe anche bere. Deduco che lei è a stegno. Infatti, ne ho mandato giù quanto basta ai miei tempi. E negli alcolisti anonimi? No, niente alcolisti anonimi. Ho smesso, basta. Ho avuto tanti amici che bevevano. Anzi, bevevano quasi tutti. E quasi tutti sono morti. Per colpa del bere. Per colpa del bere o per ragioni che ci vanno molto vicini. Un po' di tempo fa, un mio amico l'ha messo sotto un taxi. E sai dove stava andando? Da ubriaco stava andando a cercarsi dell'altro whisky. In casa ne arriva a bizzeffe. Ma gli ubriaconi hanno sempre paura di finire le scorte. Ed è morto. E voglio sperare. L'abbiamo seppellito. Immagino che questa storia abbia una morale. È solo una storia che parla di quello che uno vuole e di quello che uno ottiene. Di sofferenza e di felicità. Il punto, ovviamente, è che la paura più grossa dell'ubriacone non è quella di morire per colpa dell'alcol, cosa che tanto gli capiterà. È restare a corto di alcol prima che gli succede. Hai fame. Posso anche tornarci dopo su questo discorso. Non è che perdo il filo. No, sto bene. Vado avanti. Ma se dai un bicchiere pieno a un ubriacone e intanto gli dici che non è quello che vuole davvero, secondo te, lui, cosa ti risponde? Penso di potermelo immaginare cosa mi risponde. Certo. Eppure avevi ragione tu, dicendogli che non è quello che vuole davvero. Ma quello che vuole davvero è convinto che non lo può avere. E quindi si ingozza di quello che non vuole davvero. E invece cos'è che l'ubriacone vuole davvero? Avanti. Che lo sai anche da solo. No, non lo so. Sì, invece. Sei un caso difficile, professore. Vuole quello che vogliono tutti. Essere amato da Dio. Io non voglio essere amato da Dio. Ecco, perfetto. Lo vedi che sei andato subito al punto? Neanche l'ubriacone, secondo lui, almeno. L'ubriacone vuole solo un bicchiere di whisky. Ma tu sei un uomo intelligente, professore. E quindi capisci bene qual è il desiderio autentico. Lei sembra non comprendere che per la gente come me il desiderio di Dio non è altro che il segno di una vana ricerca di consolazione. Ci sono andato a un paio di riunioni degli alcolisti anonimi. A un mucchio di gente non andava tanto a genio il capitolo Dio della faccenda. Ma a me non mi ci è voluto granché a capire che il capitolo Dio era l'unico che valeva qualcosa. Il problema non era che c'era troppo Dio negli alcolisti anonimi. Era che non ce n'era abbastanza. E per certe cose ho la testa dura. Però alla fine l'ho capito che quello che valeva per gli alcolisti anonimi probabilmente valeva anche per tante altre cose. Beh, guardi, mi dispiace, ma per me tutta questa storia di Dio è una gran cazzata. Oh, signore, abbi misericordia. Oh, Gesù, salvaci. Il professore ci ha bestemmiato addosso. Adesso non possiamo più andare in paradiso. Non la considera davvero una brutta cosa da dire, eh? Oh, signore. No, professore, io no. Se invece vogliamo parlare di come la pensa quel tizio lassù in cielo, secondo me di atei e bestemmiatori ne ha visti talmente tanti che non gli danno tutto il fastidio che credi tu. Cioè, mettiamo che uno ti dice che non esisti e tu gli stai seduto proprio davanti mentre te lo dice. Mica la cosa ti farebbe incazzare davvero, no? Capisco quel che intende. Comunque, anche per me non si incazza. Perché chi non esiste non può incazzarsi. I bestemmiatori vorrebbero farlo incazzare, così sono costretti ad essere credenti per illudersi di riuscirci. Ma non è il mio caso. Bene, professore. Sono contento che almeno su un punto siamo d'accordo. Gesù non si incazza. Ora, nel mio caso, ha dovuto urlarmi in faccia mentre me ne stavo steso su un letto in due pezzi che qualcuno mi aveva riattaccato con ago e filo nel punto dove un negro aveva cercato di affettarmi come una mela. Ma mi sento comunque di dire che se Dio è Dio allora può parlare al cuore delle persone in qualunque momento. E soprattutto che se ha parlato a me e a me ha parlato e come può parlare a chiunque. Beh, allora diciamo pure che io non sono disposto ad ascoltarlo. Il mio problema non si risolve né con l'alcol né con Dio. E allora come si potrebbe risolvere? Credo che lo sappia da sé come si potrebbe risolvere. Con il treno. Esatto. È un bicchierone di whisky bello grosso. Professore. Che non voglio davvero. E che non vuoi davvero. Che non vuoi davvero, infatti. Beh, io invece penso proprio di volerlo. Ma certo, zuccherino. Altrimenti non saremmo seduti qui. Ma io avrei qualche altra cosetta da dirti. Chissà perché me lo immaginavo. Immagino quello che stai pensando. Chissà che intenzioni ha sto matto. Niente di più facile che mi vuol fare un incantesimo. Adesso magari si mette a delirare come un invasato. Meglio che alzo le chiappe e me ne vado. Niente di più facile anche che cerca di fregarmi il portafoglio. Devo muovere il culo e correre alla stazione prima che mi capiti qualcosa. Molto divertente. E come dobbiamo fare con te? Professore. Senta. Io le devo molto. Agli occhi del mondo, quanto meno. Posso darle qualcosa per il disturbo. Così siamo pari. Dei soldi, non so, o qualcosa del genere. Potrei darle mille dollari. Oddio, mi sa che non è molto. Potrei dargliene tremila per dire. Vorrei solo sistemare la questione in qualche modo. Non è con me che devi sistemare la questione. Lei crede davvero che sia stato Dio a mandarmi sulla sua strada? Ah, di questo non ne dubito. Ma lei crede a tutto ciò che è scritto lì dentro, nella Bibbia? Vuoi la pura verità? Mi sa di no. Ma se è da dire che io sono un poco di buono e questo già lo sai. E su che cosa non concorda? Forse, sull'idea del peccato originale. Quando Eva ha mangiato la mela e tutti diventano cattivi. Io la gente non la vedo così. Penso che di solito, in partenza, la gente è buona. Secondo me, il male è qualcosa che ci teniamo addosso noi da soli. Soprattutto desiderando quello che non ci spetta. Ma adesso non vorrei mica che mi metto qui a fare la parte dell'eretico mentre cerco di trasformare te in un credente. Lei è un eretico? Non più di quanto dovrebbe esserlo chiunque. Anche chi ha una fede grande è così. Non sono uno che dubita. Però sono uno che fa domande. E che differenza c'è? Beh, secondo me chi fa domande vuole la verità. Mentre chi dubita vuole sentirsi dire che la verità non esiste. Lei pensa che si debba credere in tutto quello che c'è scritto in quel libro per essere salvati? No, non credo nemmeno che bisogna per forza leggerlo, questo libro. Magari non c'è manco bisogno di sapere che esiste. Secondo me, tutta la verità che sta scritta in queste pagine è scritta anche dentro il cuore delle persone. E c'è stata scritta tanto tempo fa. E ci resterà scritta ancora per un bel pezzo. Anche se questo libro lo bruciano fino all'ultima copia. Ma quello che ha detto Gesù, secondo me, non se l'ha inventato di testa sua. Lui l'ha solo riferito. Questo libro è una guida per gli ignoranti e quelli che stanno male dentro. Un uomo a posto non ne avrebbe neanche bisogno. E chiaramente se ti metti a leggere questo libro scopri che si parla molto di più della via sbagliata che della retta via. Come mai? Non lo so. Come mai? Lo vorrei sentire da te. Penso che la risposta alla sua domanda sia che la dialettica del sermone presuppone sempre un fondamento di male. Cavoli! Ma ti stende come il fiato di un mulo, professore! Quanto mi piacerebbe uscirmene così con i fratelli! Uuuuh! E cos'è che hai appena detto? Rispondevo alla sua domanda. La Bibbia è piena di storie che devono servire d'ammolimento. Anzi, ne è piena tutta la letteratura, se per questo. Ci dicono di stare attenti. Attenti a cosa? A non prendere la strada sbagliata. Il sentiero sbagliato. Quante ne esistono di strade sbagliate? Un numero infinito. E di strade giuste, una sola. Da qui lo squilibro di cui stava parlando. Forse è vero che per ciascuno la strada giusta è una sola. Solo che la dialettica del sermone ignora che la strada giusta non è la stessa per tutti. Cavoli! Ti dico una cosa, professore. Io ti vedo bene in televisione. Un bell'uomo come te, poi, lo sapevi? La pianti. Ma dico sul serio. Non ero manco sicuro che lo eri davvero un professore finché non te ne sei uscito con questa roba qua. Lei si diverte a sfottermi. Beh, meno male che la faccio divertire. Ti giuro di no, zuccherino. Io non sarei mai capace di dire quello che hai appena detto tu. Hai tutta la mia ammirazione. Perché qui? Che cosa gliene viene in tasca? Lei mi sembra un tipo intelligente. Io? Ma te l'ho detto. A me, di mio, non è mai venuto in testa un pensiero che sia uno, se non sta qui dentro. E io non ne so un accidente. Non capisco come fa a vivere qui. Non capisco come fa a sentirsi al sicuro. Oddio, su questo non posso darti torto, professore. Sul fatto della sicurezza, quanto meno. Ha mai aiutato uno di questi drogati a smettere? Che lo sappia no. E allora che senso ha? Non capisco. Insomma, è una cosa senza speranza. Questo posto è solo un lazzaretto dello spirito. Cazzo, professore! Un lazzaretto dello spirito! Dove l'ho messa la matita? Beh, così. Guarda che non ti faccio più andare via, eh. Questa la metto nel mio libro. Nel suo libro. Nel lazzaretto dello spirito. Cazzo! Quanto suona bene! Mi sta prendendo in giro. Lo sai benissimo che non sto scrivendo nessun libro. Beh, comunque continuo a non capire perché non se ne va da qualche parte dove potrebbe fare del bene. Invece di stare in un posto dove del bene ce n'è bisogno? Anche Dio a un certo punto si arrende. All'inferno non c'è la religione. Che io sappia, almeno. No, non c'è, dici bene. La religione è per i vivi. Ecco perché siamo responsabili dei nostri fratelli. Perché quando smettono di respirare non li possiamo più aiutare. Da quel momento in poi sono nelle mani di qualcun altro. Quindi bisogna che gli stiamo dietro ad esso. A volte bisogna perfino tenere d'occhio l'orario della metropolitana che vogliono prendere. A volte sarebbe meglio non farlo. Anche se lei pensa che l'impresa sia condotta da Gesù. E non ti dispiace. Ma non credo che pensare sia la parola giusta. E a Gesù interessa venire qui in questa fogna e salvare quello che tutti sanno che è insalvabile. Ma perché lo dovrebbe fare? Ha detto anche lei che non ha tempo da perdere. Perché dovrebbe venire qui. Questo è come un edificio deserto. In quanto è deserto moralmente e spiritualmente. Professore, vedo che sei un teologo. Io non me ne ero manco accorto. Ma com'è faceto. Comunque ora me ne devo proprio andare. No, rimani. Ho un'idea. Preparo qualcosa da mangiare. Che ne dici? No, grazie. Non ho fame. Allora un caffè. Va bene. Vada per il caffè. Va bene. Lui ha detto va bene. Secondo te, cosa hai di sbagliato per esserti ritrovato come un'unica alternativa al treno? Non ho niente di sbagliato, secondo me. Penso di aver raggiunto il punto in cui si è costretti a guardare in faccia la verità. Tutto qui. Il fatto che veda le cose in modo diverso da lei e forse da chiunque altro non significa che abbia qualcosa di sbagliato. Da chiunque altro. E che mi dici di tutti quegli altri tizi che tentano di farla finita? E che le devo dire? Beh, forse tu sei uguale a quelli lì. Forse sono quelli i tuoi simili. Per natura. È solo che fra voi non vi frequentate un gran che. No, non credo. Ho fatto terapia di gruppo con quella gente e non ho mai trovato nessuno a cui mi sentissi affine. E gli altri professori? Anche con quelli? Niente affinità? Per carità di Dio. Io detesto loro e loro detestano me. Ehi, aspetta un attimo. Solo perché non ti stanno simpatici? Non vuol dire che non siate simili. Com'è la parola che hai usato? Detestare? È una parola abbastanza forte, no? Non abbastanza temo. E come mai li detesti? Questi altri professori? Non so che cosa sta pensando. Pensa che li detesto perché sono simili a me e io detesto me stesso. Cazzo, professore! Se avevo il tuo cervello, chissà a quest'ora dov'ero arrivato. Sarei diventato un re della droga o qualcosa del genere. Girerei in Rolls Royce. E di nuovo faceto? No, non è vero. E non era vero neanche prima. Ti voglio chiedere una cosa. Prendi qualche tipo di medicina, tu? No. Non esiste nessuna medicina per i pellegrini che aspettano di prendere quel treno? Per la depressione con tendenze suicide? Sì. Sì, esistono. Le ho provate ma non mi sono servite a niente. Guardi che mi sa che il caffè è uscito. Sì, lo so. Ma per la maggior parte della gente queste medicine funzionano? Sì, per certi sì, ma per me no. E invece per te no. E tu come te lo spieghi? È semplice. Nel mio caso non si tratta di una patologia curabile coi farmaci. La mia è una decisione razionale. Con questo non intendo che dovrebbe essere condivisa da tutti, ma solo che è appropriata alla mia concezione del mondo. Ma io vorrei trovare delle affinità tra te e gli altri a spasso là fuori. Ci vuoi latte o zucchero? No, grazie. Lo prendo amaro. Non si sa mai. Magari ci sono degli altri pendolari terminali là fuori, immuni alle medicine. E chissà che non potete diventare amici. Pendolari terminali? Suona bene, no? Non male. No, non voglio diventare amico di nessuno. Ma a volte le persone non sanno quello che vogliono fino a quando non lo ottengono. Tu prendi la metro tutti i giorni, professore? Sì. E cosa ne pensi di quella gente? Della gente in metropolitana? Cerco di non pensarci a farlo. Hai mai parlato con qualche passeggero? No. Oddio, no. Non mi piace attaccare discorso con la gente. Però non faresti del male a nessuno. No, certo che no. Ma dove vuole andare a parare? Non lo so di preciso. Sto solo cercando di capire che cosa Dio vuole da me. Se il mio modo di vedere il mondo ti pare molto ristretto non posso darti torto, ma so per certo che non ero io quello che stamattina al binario si scaldava i muscoli per acchiapparti con quel bel salto. Lei ha diritto di vedere le cose a suo modo. Tante cose vanno al di là della mia comprensione. Una volta credevo di calarmela agendo di testa mia, finché ho capito che quello che non mi aveva portato da nessuna parte in quarant'anni doveva essere abbandonato. Allora ho deciso di chiedere. Ed è stata dura. Non ti dico di no, professore. È stata dura. Ero steso lì. Un taglio unico incatenato a un letto di ospedale e piangevo da quanto mi faceva male e pensavo che pure se sopravvivevo poi quelli mi ammazzavano. Allora via tutti gli altri pensieri. E alla fine ho detto, ti prego, aiutami. E lui mi ha aiutato. Ecco la mia storia, professore. È presto detto, non faccio un passo senza Gesù. Quando mi alzo al mattino, tento soltanto di aggrapparmi alla sua cintura. Certo, ogni tanto mi accorgo che ho staccato il pilota automatico e sto di nuovo volando da solo, ma mi riprendo subito. Metti che Gesù ti parlasse. Tu che fai? Credo che questo non possa accadere. Beh, se dovessi sentire Dio che mi parla, l'autorizzo a prendermi e portarmi direttamente all'ospedale psichiatrico. Capisco comunque come per certe persone possa essere rasserenante abbandonarsi alla guida di un misterioso Dio. Mi pare di capire che secondo lei la cultura tende ad accrescere la sofferenza umana. Che più cose uno sa, più è probabile che si è infelice. Come nel caso di qualcuno che conosciamo. Come in quel caso. Comunque è la prima cosa che si racconta in quel libro lì, il giardino dell'Edel. La conoscenza che distrugge lo spirito, che distrugge il bene. Sbaglio o non l'avevi letto questo libro? Quella storia la conoscono tutti. Deve essere la storia più famosa che c'è lì dentro. Beh, insomma, secondo te, perché? Immagino che dal punto di vista di Dio la conoscenza sia vanità. Oppure che dia alla gente la pericolosa illusione di poter superare in astuzia il demonio stesso. Cazzo! Professore, ma dov'eri quando avevo bisogno di te? Farà meglio stare attento. Lo vede dove mi hanno portato certe idee. Eh, lo vedo sì. È proprio di questo che stiamo parlando. Quando uno legge la storia del mondo, legge una saga fatta di stragi, avidità e follia, la cui gravità è impossibile da ignorare. Eppure immaginiamo sempre che il futuro in qualche modo sarà diverso. Non intendo più coltivare queste sciocche illusioni. Ecco perché è del tutto ragionevole la soluzione del treno. Vediamo un po'. Articolo a pagina 3 Sì, ecco qua. Gli amici riferiscono che l'uomo aveva ignorato tutti i loro consigli e aveva dichiarato di voler seguire la propria strada. Un confidente intimo ha dichiarato, e qui si aprono le virgolette, con quel figlio di buona donna non ci si poteva proprio parlare. Si può dire così sul giornale, figlio di buona donna? Frattanto, i testimoni sporfi di sangue alla stazione sulla 155esima, continua a pagina 4. Intervistati sul luogo dell'accaduto, hanno tutti riferito che le ultime parole dell'uomo, mentre si lanciava sotto la metropolitana in arrivo, sono state «ho ragione io». Ah, 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 ah. Molto spiritoso. Ah, professore, tu sì che sei proprio un tipo speciale. Siamo tutti speciali, ognuno con la sua propria personalità. Ma non ti pare che forse quegli altri pendolari li guardi un po' dall'alto in basso? No, gli altri pendolari li vedo sprofondati nello stesso abisso in cui mi trovo io, se loro lo giudicano diversamente rispetto le loro opinioni. Hmm, ma io mi chiedo, quegli altri pendolari che come te vogliono un biglietto di solo andata, perché non possono essere tuoi fratelli nella disperazione e nell'autodistruzione? Secondo me è che i tuoi motivi sono meglio dei loro. Cioè, il loro motivo è che non gli piace la vita, che si sentono male, ma il tuo dice pure che cos'è che non puoi più sopportare. E perché? Tu hai dei motivi più intelligenti, più eleganti. Le piace sfottere, eh? E secondo te, perché la gente si ammazza? Non lo so, per vari motivi, ognuno ha i suoi. D'accordo, ma questi vari motivi, se l'hanno qualcosa in comune? Non posso parlare per gli altri. I miei motivi hanno a che fare con una graduale perdita delle illusioni, tutto qui. Una graduale illuminazione della mia visione della realtà, del mondo. Motivi eleganti? Così li ha definiti lei. Sono i motivi di cui tuo fratello non sa niente, quando si appende con la cravatta al soffitto giù in cantina. Quello avrà dei suoi motivi stupidissimi, ma se invece a lui e ai suoi compari li educhiamo e li portiamo a capire i motivi più eleganti, magari in giro ci sarà tanta gente che si ammazza con più gioia nel cuore. Tu che ne pensi? Sempre più faceto. Stavolta mi sa che hai ragione. Mi sa che alla fine mi ci hai fatto diventare. Ecco, che il professore è arrivato a farmi... Meglio che ci sto attento. Sì, infatti. Magari sto tirando fuori il sacco anch'io. Quello che voglio comunicarti è che c'è una buona alternativa al treno. Quella di amare i propri fratelli e la volontà di vivere per condividere con loro i dolori della vita. Certamente posso sentire compassione per quelli che lei chiama fratelli. Ma fare di questa compassione una ragione di vita sarebbe una forma di masochismo. Per me il mondo è fondamentalmente un campo di lavori forzati da cui ogni giorno si estraggono a sorte dei detenuti completamente innocenti perché vengano giustiziati. I sforzi che fa la gente per migliorare il mondo invariabilmente lo peggiorano. Una volta pensavo che ci fossero delle eccezioni alla regola. Ma adesso non lo penso più. Però farsi investire da un treno è un tantino doloroso, no? No, ho fatto bene i calcoli. A cento e passa l'ora il treno è troppo veloce per i neuroni. Non si dovrebbe sentire alcun dolore. Mi sa che mi tocca restarti incollato al culo per un bel pezzo, eh? Spero di no. Sto cercando di cavare sangue da una rapa, eh? Ammiro la sua tenacia. So che dovrei esserle grato per quel che ha fatto. Mi dispiace che non sia così. So di essere un ingrato. Ma per chi è in bancarotta spirituale, l'ingratitudine non è un peccato così grave come per il timorato di Dio. Tu non mi devi niente, professore. Lei è molto gentile. Vorrei che ci fosse un modo per ripagarla, ma non c'è. E allora, perché non ci salutiamo qui, così lei non perde altro tempo? Che cosa posso fare per convincerti a restare un altro po'? Perché? Spera che se resto qui abbastanza, alla fine magari Dio mi parti. No, spero che magari parli a me e mi dica che cosa posso fare. Ha mai avuto a che fare con dei suicidi? No, tu sai il primo. Per questi tossici e cracomani non c'è niente di più lontano del suicidio. Non capirebbero neanche di cosa stai parlando. Si svegliano tutte le mattine nel dolore, un dolore atroce. Ma non se ne vanno al deposito della metro? Adesso mi dirai, tante grazie, loro ce l'hanno qualcosa che gli fa passare il dolore. Devono solo sbattersi un po' in giro per procurarselo. E non ti posso dare torto, ma la domanda rimane. Che cos'è esattamente questo dolore che porta i pendolari a infilarsi un bel cappotto di legno? Di che tipo di dolore stiamo parlando? Beh, io non so che dirle. La decisione di lasciare tutto è il punto dove finalmente sono arrivato. Mi ci è voluto tanto per arrivare. E se c'è una cosa che non sono disposto a mollare è questa. Mi aspetto che sia quella a portarmi a destinazione. Dipendo da quella. Le cose in cui credevo erano molto fragili. Una alla volta vanno perdute. Alle perdite ci si può abituare. Uno molla il mondo riga per riga, stoicamente. E poi un giorno si rende conto che il suo coraggio è una farsa. Non ha nessun significato. Capisce che è diventato complice del proprio annichilimento. E non ci si può fare un bel niente. Ogni sua azione gli chiude una porta davanti. Finché di porta aperta ne resta solo una. Che mondo buio, professore. Qual è la cosa peggiore che ti è mai capitata? Essere strappato a un binario della metro un bel mattino da un emissario di Gesù Cristo. Capisco. Allora fammi provare così. Per come la vedo io, il mondo non può mai essere migliore di quello che gli permettiamo noi di essere. Prendi un mondo buio come quello dove vivi tu e non ci saranno mai grosse sorprese in fatto di buone notizie. Ma un mondo migliore esiste. Bisogna solo chiederlo. Bisogna mettersi nella fila giusta. Comprare il biglietto giusto. Prendere il treno dei pendolari normali. E tenersi lontani dalla linea veloce. Tenersi sul binario come gli altri pendolari. Magari anche fargli un saluto con la testa o addirittura dirgli ciao. Sono tutti viaggiatori, pure quelli. E qualcuno sarà stato in posti dove la gente di solito non vuole andare. E non ci volevano andare manco loro. Magari ti possono pure raccontare come ci sono arrivati. E così ti risparmiano un viaggio che sarai contento di non aver fatto. La prego, cerchi di capire che io anelo all'oscurità. Io prego che arrivi la morte, la morte vera, cioè il nulla. Se pensassi di incontrare da morto le persone che ho conosciuto in vita, allora sarei veramente disperato. Sarebbe la cosa più orrenda. Se dovessi rincontrare mia madre e ricominciare tutto da capo, ma stavolta senza la prospettiva della morte a consolarmi, senza la salvezza del treno, sarebbe il colmo della disperazione. Ma per mia fortuna credo fermamente nel nulla dopo la morte. Cazzo, professore, non vuoi rivedere la tua mamma? No, per niente. Io voglio che i morti restino morti, per sempre. E voglio essere uno di loro. Se non che ovviamente non si può essere uno di loro, perché ciò che non esiste non può formare una comunità. Ecco, nessuna comunità. Mi si scalda il cuore soltanto all'idea. Silenzio, buio, solitudine, pace. E tutto questo nell'arco di un battito di ciglia. Cazzo, professore, io non credo in Dio. Lo capisce questo. Si guardi intorno, amico mio, non lo vede. Quale Dio, che non fosse un demone, potrebbe mai tollerare il frastuono e le grida di tutta la gente che soffre? La comunanza di cui lei parla è basata soltanto sul dolore. L'unica salvezza è la morte. Santo cielo, amico mio, mi mostri una religione che prepari l'uomo alla morte, al nulla. Quella sarebbe una chiesa in cui potrei entrare. La sua prepara solamente ad altra vita, ad altri sogni, illusioni e menzogne. Se si potesse bandire la paura della morte dallo cuore degli uomini, essi non vorrebbero vivere un giorno di più. Chi sarebbe disposto a sopportare la vita se non per paura dell'incubo che la seguirà? Sopra ogni gioia pende l'ombra dell'ascia. La vita è fatta solo di tormenti, fisici e morali, tradimenti, lutti, vecchiaia, umiliazioni, malattie orrende e alla fine di tutto il terrore della morte. E lei mi viene a dire che nel mio fratello sta la mia salvezza. Beh, allora lo maledico. Lo maledico sotto ogni forma e sembianza. Mi ci rivedo in lui? Sì, che mi ci rivedo. E quello che vedo mi disgusta. Mi capisce? Riesce a capirmi? Non credo di capirti. Ma lasciami sparare un'ultima eresia. Il Dio di cui ti parlo è l'oro che sta in fondo alla miniera. Gesù non poteva scendere sulla terra e prendere la forma di un uomo se quella forma non era fatta apposta per ospitarlo. Perciò Gesù, quell'oro in fondo alla miniera, non è qualcosa di separato da noi. In definitiva non è altro che il cuore dell'uomo. Ascoltare Gesù vuol dire semplicemente ascoltare il proprio cuore. Forse questa è una grossa eresia, ma non tanto grossa come dire che un uomo non è tanto diverso da un sasso. E secondo me, in pratica è così che la vedi tu. No, non la vedo affatto così. Se mi vedessi come un sasso, probabilmente mi andrebbe bene il continuare a vivere. Invece mi va benissimo la sua eresia. Ma allora se ascoltare Gesù è ascoltare il mio cuore. Ecco cosa mi sussurra Gesù. Corri al treno! Corri al treno! Corri al treno! E con questo la ringrazio di tutto e la lascio a colloquio col suo Dio. Professore, lo so che non dici sul serio. Professore, guarda che io sono di nuovo lì, domani mattina. Mi trovi lì! Hai capito? Mi trovi di nuovo lì, domani mattina! Mi trovi lì? Non diceva sul serio. Lo sai che non diceva sul serio? Tu lo sai? Non capisco perché mi hai mandato laggiù. Non lo capisco. Se volevi che l'aiutassi. Perché non mi hai dato le parole giuste? A lui gliel'hai date e a me non fa niente. Non fa niente. Anche se non mi parlerai mai più, lo sai che manterrò sempre la tua parola. Lo sai? Lo sai che sarò capace. Va bene? Va bene? La sposa è la sua. Grazie a tutti